Lo si aspettava ed è arrivato l'aumento dei contagi impennata nelle ultime 24 ore, sono 768 i positivi registrati, con un picco di 205 contagi in più in città. Non si registrano tuttavia grandi variazioni nei ricoveri, infatti restano due i ricoverati in terapia intensiva e 43 quelli in malattie infettive. Sono 933 i positivi in città, con un grosso aumento rispetto ai giorni precedenti, mentre sono 1.213 i positivi a Gela. Omicron 2 dilaga, meno invasiva nella qualità della malattia, ma ancora più contagiosa. I sintomi mal di gole raffreddore rispetto a Omicron 2, però c'è uno studio del Regno Unito che parla di nuovi sintomi che sarebbero interessanti per le persone infettate da Omicron 2, e soprattutto a livello intestinale, come nausea, dolori all'addome, vomito e bruciore di stomaco. Le informazioni a riguardo sono ancora preliminari e serviranno nuovi studi per capire più a fondo il comportamento di questa subvariante. In ogni caso i sintomi più comuni visti con Omicron sono gli stessi.